ostuni e si trova nella parte più settentrionale della penisola salentina è chiamata la città bianca perché è un borgo antico e interamente imbiancato al latte di calcio è una caratteristica tipica dei borghi di questa zona della pubblica piazza della libertà è importante perché il centro della città in quanto sorge la quinta maestosa del municipio e anche la guglia settecentesca di santo ronzo sarà proprio in piazza della libertà il salotto il centro della città che si terrà la sfilata di alta sartoria di dolce gabbana